Cibo, mare e cultura. Dal 10 al 12 maggio ritorna l'Oyster Fest, il primo festival italiano completamente dedicato alle ostriche. È la seconda edizione, la prima era stato un grande successo. Miriamo ad avere un'edizione ancora migliore, con contributi importantissimi dal punto di vista dell'informazione e della conoscenza del prodotto, che è importantissimo per noi, per i nostri mitiricoltori, per l'economia del mare che gravita intorno a questa. E naturalmente anche per l'aspetto ecologico che ha questo tipo di iniziativa, dobbiamo puntare ad avere un appuntamento annuale ricorrente, importantissimo a livello nazionale. È il primo, vogliamo che sia così anche in futuro. Un evento di portata internazionale, come per i vini e per i formaggi, anche in questo campo il derby è con i francesi. Questo festival è stato fatto per questo, per dimostrare che l'Ostrica è italiana, non parlo di spezzina, perché è un movimento che sta crescendo a livello nazionale, non ha nulla a che vedere con l'Ostrica francese, anzi, in certe forme è sicuramente qualitativamente superiore. Un movimento che nel nostro golfo è in crescita esponenziale. Sì, perché basta parlare i numeri. Nel 2022 abbiamo prodotto 40 quintali di ostriche, spezzine, quindi nate in Francia, ma naturalmente poi affinate e lavorate nel compressore spezzino. L'anno scorso 120 quintali, portate da seme a prodotto adulto e quest'anno contiamo di superare i 300 quintali, quindi è una crescita esponenziale, ma si sta dando ragione anche il mercato perché stiamo entrando nella ristorazione di qualità. Tanti muscolai stanno incontrando molte difficoltà a causa della voracità delle orate. L'Ostrica sta diventando un prodotto su cui puntare sempre di più. La maggior parte dei miti ricoltori in questo momento è innegabile, è in difficoltà, siamo in difficoltà, proprio per questo frangente che comunque abbiamo la determinazione di risolvere, nel senso che il problema delle orate noi lo dobbiamo risolvere. Detto questo c'è l'opportunità dell'Ostrica, dell'Ostricoltura e tanti stanno affiancando l'Ostricoltura, la miti ricoltura, qualcuno sta facendo anche solo ostriche perché comunque sia ci si dedica molto di più. In ogni caso noi la miti ricoltura non l'abbandoneremo mai perché comunque sia il nostro principale asset, il core business come dicono nelle borse internazionali. Però sicuramente l'Ostrica è una bella valvola di sfogo perché comunque sta dando tantissime soddisfazioni.